Elvino Echeoni inizia negli anni 70 come artista figurativo vitale e innovativo. Fondamentale per il suo percorso è stato l'incontro con Novella Parigini, che lo ha spinto a sperimentare stili e tecniche diverse fino ad arrivare all'astrattismo. Elvino è artista vero. Ha esposto in tutto il mondo. Nei suoi quadri ha affrontato tematiche sociali e culturali, ha ottenuto prestigiosi incarichi, come l'opera per la fermata Mirti della metropolitana Cidironi, l'enorme murale realizzato all'ingresso della Fiera di Roma e la tela donata a Papa Giovanni Paolo II. Ha realizzato l'Oscar della musica, l'Oscar della bellezza italiana nel mondo e il premio Il Cantagiro nel mondo. Ha rappresentato l'Italia all'Art Fair di Shanghai e all'Art Expo di New York. Visionario, poetico e innovativo, oggi ha messo tutto il suo talento al servizio di una grande sfida artistica. Il Golden Domus Toscano, il riconoscimento più ambito per le eccellenze del gruppo toscano.